che c***o è? è grande Ale non ho fatto lì grande me l'aveva illuminato? si però la stalla marina era meglio qui in pesca due cani a fondo con bibi Paolo a galleggiante e Ale con i bigattini a fondo vediamo se esce qualcosa con i bigattini per la stalla c'è il nostro corso a che c'è un corso e il nostro corso Grazie a tutti. Grazie a tutti. Me l'aveva illuminato? Sì, però la stalla marina era meglio. Minchia! Bellissimo! Che storia! Bibbi? Stupida Bibbi, oh! Mezzo chilo lo sarà? Veramente un bel pesce, su mezzo chilo. Bello bello! Che c***o? Che c***o? Sembra uno squalo. È uno squalo. Sì, è una... No, non è una verdesca. Oh porco, due. Tengo tese, tengo tese. Ok. Libero. Poco due. C'è... Cioè, o c'è o ci ha ridato. Ah, non c'è. No, non c'è, non c'è, non c'è. Ci ha ridato prima. Sessione è finita. Mi posso ritenere fortunato. Non c'è, non c'è, non c'è.